Un terremoto di magnitudo 6.1 martedì ha colpito l'isola greca di Lefkada, ha ucciso due persone, causato ingenti danni a infrastrutture e abitazioni anche nella vicina isola di Cefalonia. L'istituto di geodinamica di Atene ha fatto sapere che il terremoto si è verificato attorno alle 9 e 10, a circa 300 km dalla costa a ovest di Atene. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Puglia, Basilicata, Sicilia e in Calabria, dove nella zona della Locride sono state chiuse per precauzione alcune scuole. Le due vittime sono una donna di 82 anni uccisa dal crollo di un muro e una di 69 anni colpita da un masso caduto sulla sua casa. Altre 4 persone sono state ricoverate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.